E tra le altre cose con quello che è successo oggi, con maleggiate cose, anche il viaggio non è stato semplice. Vi presento Martina Isaffetto. Come? Con la E, Isaffetto, ma ne a Gianfranco. Gianfranco, non mi dire più tu i nomi nativi, perché ci sono un bambino. Allora, Martina ci farà sentire, prima io amo, giusto? E poi dedicato a Padre Pio, sto sbagliando? E giusto a voi, ne va? Signore Martina Isaffetto. Il microfono con l'asta, dobbiamo prendere il microfono con l'asta. Non è che qua. Allora, sistemiamo tutto. Nel frattempo Gianmaria li muta alla base a me. E' il microfono con l'asta. Sono pronti? Sì. Pronta Martina? Martina Isaffetto. Buonasera a tutti. Allora, questa sera vi farò ascoltare due brani. Un brano alla tastiera, di Fausto Leali, che si intitola Io amo. E un altro brano alla fisarmonica, che si intitola Dedicato a Padre Pio. Perché, dato che siamo in tema, io frequento anche il coro della chiesa. Sono una ragazza molto di chiesa e sono anche devota a Padre Pio. E quindi vi farò questo omaggio. Iniziamo con Io amo di Fausto Leali. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? Per respirare sul tuo seno, amore, amore. Sbaglio piano la finestra, tra le persiane un po' di blu, mi sveglio già e mi fate in testa. Io amo, 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 tu solamente tu. Non ci sei un'amore, io amo, 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 tu non ci sei un prezzo. Noi tra queste mura, non c'è un'avventura, amo, amo, dove va a dormire il cielo. Se li rubiamo tutto il blu, se le mie braccia ha preso il volo, amo, io amo, tu, solamente tu, grazie. Noi tra queste mura, non c'è un'avventura, amo, io amo, tu, tu, sempre penso. Noi tra queste mura, non c'è un'avventura, amo, io amo, io amo, amo. Grazie.